Allarme Rancitelli, il Movimento 5 Stelle oggi denuncia davanti a telecamere stampa la situazione di degrado e incuranza nella quale vivono le famiglie. Oltre all'allarme sicurezza dovuto dalla delinquenza presente nel quartiere, l'appello è a tutte le istituzioni che in tanti anni non hanno mai risposto alla richiesta di aiuto dei suoi residenti. Qui c'è un proprietario delle case popolari che è la regione Abruzzo, c'è un presidente della regione, hanno chiesto con forza e chiediamo con forza la sua presenza perché servono soldi per ristrutturare case che stanno letteralmente cadendo, pericolanti, che mettono a serio rischio anche l'incolumità pubblica. Non solo, siamo un quartiere difficilissimo dove lo spazio di droga è quotidiano, ci vogliono presidi fissi ma anche mobili di polizia, un controllo del territorio e poi i servizi, manca un assistente sociale, mancano servizi di accoglienza e quant'altro, non bastano interventi sporadici per magari ristrutturare un parco, prima di ristrutturare un parco devono ristrutturare le case dei cittadini che stanno crollando. Signora, lei da quanti anni vive qui? Eh, 40 anni. Quali sono i disagi che avete lamentato? Eh, i disagi, le scesole sempre rotte, il portone sempre rotte, scale rotte, nessuno che fa le pulizie per le scale, nessuno mi mette una lira per pulire, la situazione è di persone che sono anche in lago gli anni, si parla anche di paura? Sì, si parla di paura perché qui c'è un alto tasso di criminalità, piccoli spacciatori quindi, e noi abbiamo paura, lo si fa in casa, nei portoni. Le porte non si chiudono, dicevate? No, le porte, ci è stato rimesso poca anzia, neanche un mese fa, già è rotto. Già è rotto perché devono entrare... I citofoni non funzionano. Da un anno e più, la posta non ci arriva, o arriva in ritardo, viene rubata.